Grazie! Allora cosa volete dal vostro detersivo? Che tolga le macchie! Anche a basse temperature! Esatto! Che il bianco sia perfetto! Esatto! Che rispetti i colori! Esatto! E qual è la peggior macchia del pulito? L'odore di sudore! Esatto! Deox è l'unico che cattura le gocce di sudore ed evita la formazione dell'odore! Allora cosa volete dal vostro detersivo? Che sia Deox! Deox, un pulito migliore senza odore di sudore! Esatto!